Come stai a girare tutti? L'ultimo giorno dell'ultimo anno? Sì, quindi tragica la cosa è stata e poi si va a cercare lavoro sempre se si trova, io a me che avrebbe fare la receptionist e gli alberi, bello, quindi non è detto che sia qua, dovrebbe essere anche da un'altra parte, no, dovrebbe essere qua, dovrebbe essere qua, prima l'ho andata da un'altra parte, aspettiamo, anche te maturità? Stessa scuola? Stessa classe, della scuola? De Calamandrei, quindi in università o cerca di lavoro? Io mi trasferisco a Milano e devo lavorare, sai già tutto? Sai già anche dove lavorerai? No, no, mi sembra avessi, puoi cercare lavoro a Milano, come mai proprio Milano? Perché c'è la mia zia, c'è? C'è la mia zia, la zia, ok, un appoggio per partire. Sto facendo Stasuan! Grazie a tutti. Grazie a tutti.